Di Lancusi che è andata a New York per questa maratona, raccontaci un po' con la tua esperienza e com'è andata. Sì, devo dire che è stata un'ottima gara, anche se mi sono preparato e allenato per fare ben atti tempi, solo che sono stato sfortunato, quel giorno New York è stato tempestato da un vento fortissimo e diciamo che come risultato, il 50esimo posto me lo tengo un pochettino stretto, perché sono andato lì per fare decisamente meglio, ho fatto due ore e 33 ma anche questo è condizionato dal vento molto molto forte che sin dall'inizio mi ha fatto consumare tanta energia, mi sono arrivato al 18esimo miglio che stava ancora portando un buon ritmo tipo due ore e 23, due ore e 24, poi purtroppo questo vento forte mi ha causato problemi muscolari, però ho voluto lo stesso continuare questa magnifica gara perché solo per il pubblico che c'è da dire che mi ha accompagnato fin all'arrivo, quindi questa è stata un'esperienza a di poco unica. C'è un pizzico, può essere una banalità, ma c'è un pizzico di adrenalina in più correndo per le strade di New York? Sì, questo senz'altro, infatti fin dall'inizio mi sono trovato quasi al settimo ottavo miglio che sembrava che non avevo fatto niente perché ci sta un grande pubblico che ti canta dietro, quindi tu non senti i tuoi passi, non senti la tua stanchezza, senti solo questo magnifico pubblico che ti incida, quindi ti ci accompagna, da denarina questo sale, anche in partenza, vedere 60.000 partecipanti stare lì su quel ponte, mi sono girato dietro, ho visto una mare umana, ho detto oddio, dove mi trovo? Dopo New York quali appuntamenti sportivi nella tua stagione? Penso di fare maratona di Roma che si terrà a marzo, anche se nel frattempo farò una mezza maratona a gennaio, a Verona, come test. Ecco, hai detto che poteva fare addirittura meglio, però è comunque un bel risultato, c'è questo riconoscimento del comune, addirittura con una cerimonia, una premiazione. Si è più emozionato stasera o mentre gareggiavi? Ma diciamo che stasera pure mi sento un pochettino emozionato, però lì trovarmi a New York preparandola per certi ritmi, comunque porta a casa c'è un risultato perché portare a termine una maratona è già un risultato perché io ho sempre detto che faccio atletica da tantissimi anni, ma una maratona fa sempre atletica, ma secondo me è tutto un altro sport perché lì subentrano anche altri fattori, sia per prepararla, per l'alimentazione, per il tempo che uno ci dedica, un po' tutto, quindi comunque porta a casa un risultato, anche se poteva andare meglio, però me lo tengo lo stesso perché è stata comunque un'esperienza unica. Direi qualcosa ai tuoi concittadini, a questa comunità che sta continuando a sostenerti e che insomma ti ha quasi spinto verso questo risultato. Questo certo, questo mi ha comunque dato uno stimolo in più perché comunque non sono più giovanissimo correre con un lavoro e quindi questo mi ha dato uno stimolo in più, una marcia in più per adenarmi e per dare sempre il meglio di me. Possa essere un esempio anche per tantissimi altri giovani appassionati di sport? Noi già in altre occasioni ci siamo comportati allo stesso modo, nel senso che proprio perché riconosciamo una grande valenza alla pratica sportiva e cerchiamo per quello che c'è possibile incentivarla. Dai mie spalle c'è il momento di inaugurazione della piscina all'interno dell'università, anche questa è un'opera che nacque col concorso determinante del comune di Fisciano, appunto perché fosse realizzata una struttura importante sul territorio e Fisciano fu il primo comune che si convenzionò con l'università alle stesse condizioni praticate agli studenti per consentire questa disciplina anche ai cittadini del nostro territorio. Antonello Landi da tempo si spente in questa attività sportiva e gli abbiamo dato un riconoscimento che è semplice, però proprio perché è semplice abbiamo dovuto aspettare questo momento di solennità della celebrazione del Consiglio Comunale per sottolineare invece l'importanza intrinseca di questo riconoscimento che serve a lui come stimolo per invogliarlo ad andare avanti e agli altri come esempio per cercare di imitarlo perché abbiamo questa consapevolezza che se si pratica della buona attività sportiva non solo ricordando un vecchio brugardo latino si sta bene nel corpo ma questo aiuta anche ad affrontare la quotidianità, i problemi giornalieri che anche i giovani, i nostri concittadini si trovano ad affrontare molte volte in modo problematico in questo particolare momento ed aiuta anche a superare le difficoltà che stanno sempre dietro l'angolo.